La Guardia di Finanza di Pistoia ha eseguito nel grosso etano un provvedimento di sequestro per equivalente di beni mobili ed immobili per oltre 2,3 milioni di euro emesso dalla GIP del Tribunale di Pistoia nei confronti di tre imprenditori nel settore del trasporto merci su strada indagati per i reati di omesso versamento di IVA e di ritenute certificate. Le indagini condotte dai finanzieri del nucleo di Polizia Tributaria sotto il controllo del procuratore della Repubblica di Pistoia Paolo Canessa e del sostituto procuratore Fabio Divizio hanno fatto emergere elementi dai quali si ipotizza che gli imprenditori già indagati per analoghi e reati abbiano reiterato le condotte criminali omettendo di versare l'IVA e le ritenute certificate per l'ammontare complessivo di oltre 2 milioni di euro. Il sequestro, che ha riguardato sette immobili, terreni, autovetture, quote societarie e consistenze bancarie costituisce l'epilogo di una complessiva attività di indagine che già in passato aveva portato a sequestrare ulteriori beni per oltre 230 mila euro.